Parliamo di Giro d'Italia, la diciottesima tappa della Corsa Rosa sarà a Padova, per la precisione, in Prato della Valle. L'ultima volta che il giro ha toccato la città è stato 15 anni fa, quindi l'emozione qui è grandissima. La data X è il 23 maggio e Padova si sta già preparando con eventi e incontri a tema, ma anche con lavori, come ad esempio la rimozione dello spartitraffico vicino alla Basilica di Santa Giustina, perché proprio lì ci sarà la volata verso l'arrivo. La diciottesima tappa partirà da Fire di Primiero, attraverserà le terre del Prosecco e la riviera del Brenta. In città i ciclisti entreranno da Via Piovese, passeranno sul ponte di Volta Barozzo per poi percorrere Via Facciolati, svoltare a sinistra in Via Manzoni e poi a destra su Via Cavazzana. Padova per l'intera settimana si colorerà di rosa, i monumenti, le facciate dei palazzi simbolo e ci saranno anche schede dedicate all'URPS PICTA. E buon giro a tutti!